ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video siamo qui oggi su history city florence ringrazio mauro per avermi dato lo spunto su di fare questo video su questa demo e oggi proveremo insieme questo questa demo facciamo le missioni allora dobbiamo costruire una casa e un walking site e lo vorrei fa tipo qua si manda veloce si selezioniamo il lavoratore mettiamone due ok dobbiamo costruire un pozzo di legno un fieline e due campi di grano quindi pozzo facciamo qua il granaio con due campi sembrano lavoratori qua quindi io faccio così facciamo già una legna subito ok dante due case dante due case 1 e 2 quanti lavoratori abbiamo zee cioè che inattivi il punto è se io mo finisco la legna questo si può spostà perché qua è copy select e me la voglio spostà cioè non si può spostà un edificio se io qua finisco la legna con risposta questo qua che devo costruirne uno e se non ho più quelle risorse è un po' nastronzata ma non sono io a giudicare poi se bocca sa zee ma ok in modo tale da poter costruire qua un altro campo di grano e poi fare una miniera e ma dove ok quindi qua una miniera ok è molto difficile come nel gioco eh veramente difficile perché se manca cibo cioè sei fottuto però beh è un bel dito in cuno sì però dovete continuare cioè perché nessuno prende qua io ho messo i lavoratori perché non vanno cioè perché sono fermi che cazzo state a fa' c'è già finito il grano ci dovrebbe essere un modo anche per andare a raccogliere un po' di cibo perché è assurdo sperare che io con giusto i wheat field possa sfamare tutta questa popolazione non è fattibile cioè io quanto legno devo sprecare e vedi infatti può muore la gente ma è normale ma come fanno morì eh normalissimo c'è tanto da far bisognerebbe diminuire il tempo del grano ma arriva qua miglioriamo questo ma ah così per forza la nuova casa come fai altrimenti è impossibile poi qua c'è solo un lavoratore quindi non può fare tutto lui è impossibile ok per me può andare già benissimo così basic market è da costruire vineyard olive grove eh ma non me ne fotta proprio a me case mostruose non lo farò si fa da un cuo il gioco nessun lavoratore mettiamone uno qua ne mettiamo cinque invece mercato cosa mi dai quindi? un cazzo il pane ma che pane non lo posso fare? eh vatti 4, 8, 12, 16 qua non abita nessuno greve in queste due non abita nessuno vediamo così abbiamo bisogno di ne... oh ottimo ok bakery ok eh quindi è importante fare questo ok va bene bene ok abbiamo sboccato una cosa molto importante mettiamo subito due lavoratori qui ne mettiamo altri due qua e uno qua questo per migliorare non lo possiamo fare ovviamente va bene ok bene bene molto bene va bene ragazzi per me il video può finire qua spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace commentate iscrivetevi noi ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi ciao